La carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale continua ad essere una realtà. Difficoltà che riguardano i più utilizzati antifiammatori, antipiretici ed antibiotici, ma anche medicinali per la gestione di importanti malattie croniche, come l'ipertensione, l'epilessia e persino alcuni antitumorali. Questo è l'allarme lanciato da Roberto Giotti, presidente di Federfarmarezzo. La situazione è dovuta, spiega, da una parte alla carenza dei principi attivi più richiesti per la notevole diffusione delle malattie tipiche stagionali del Covid e dall'altra anche alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie necessarie e il confezionamento di tutti i farmaci medicinali. L'AIFA aggiorna costantemente la lista dei farmaci carenti, ma i farmacisti, insiste Giotti, rinnovano il proprio impegno nel suggerire alternative terapeutiche per assicurarsi le preparazioni caleniche. Il pianeta farmacie si è infatti subito attivato affinché le farmacie in grado di realizzare preparati calenici avessero tutti gli strumenti per essere operativi e superire alle carenze esistenti, in primis di farmaci antinfiammatori pediatrici a base di ipobrufene. Le farmacie, conclude il presidente Giotti, restano un punto di riferimento sempre disponibile per informare e orientare il paziente anche sull'utilizzo di eventuali alternative terapeutiche laddove l'irreperibilità di uno specifico medicinale dovesse perdurare.